E' proprio nel ruolo di portiere che il tam-tam del mercato dice che la Virtus sarebbe, il condizionale d'obbligo, alla ricerca di un estremo difensore. Ecco, questo in qualche modo ti fa pensare, ti ria fastidio. Qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è quello che decide la società, se deve prendere un portiere, se deve arrivare qualcuno. Il mio pensiero è solo quello di lavorare, come ho sempre fatto, poi chi arriva arriva e poi durante il campionato sarà il mister a decidere e poi se ci sarà la possibilità di entrare in campo, dare il massimo e basta. Quanti ritiri con il Lanciano, con questa maglia? Mi sembra sette stagioni. Siamo arrivati all'ottavo. All'ottavo addirittura. E quindi puoi ben dire, anche dalle primissime impressioni, che tipo di Virtus sta nascendo? Eh, siamo in un cantiere, dai, ancora arrivano dei giocatori, ogni giorno arrivano giocatori, oggi è arrivato anche io e me, è arrivato Padovan e altri giocatori. E noi, niente, ci alleniamo, ci alleniamo bene, è un lavoro duro e andiamo avanti. Domanda scontata, l'obiettivo del Lanciano è quello di rimanere in Serie B, il tuo personale è quello di giocare sicuramente? Chiaramente l'obiettivo della squadra è quello di, la permanenza in Serie B è quello sicuramente, è chiaro che poi ognuno ha un obiettivo suo personale, è quello ovviamente di giocare, però comunque di dare il massimo quando si è chiamato in causa. Come ti aspetti questo campionato che tra l'altro è slittato di due settimane? È un campionato difficile, sappiamo che ci sono squadre molto attrezzate come Cagliari, Cesena, Salernitana, comunque sono squadre di blasoni molto 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 forti. È chiaro che queste due settimane incidono un pochino sull'andatura delle squadre, però staremo a vedere.